Grazie Presidente, è bastata una scintilla la proposta di riforma del sistema sociale per far scoppiare l'inferno in Nicaragua. Da allora sono morte 76 persone negli scontri. Le motivazioni profonde della protesta sono molte, ma alla base vi è l'accusa d'Ortega, al suo terzo mandato, di tentare di creare una dittatura nel Paese. Prima gli studenti e poi sempre più persone sono dunque scese in strada per protestare, ognuno con le proprie richieste, ognuno con la propria storia. La reazione è stata violenta ed è stata inaccettabile. Le forze dell'ordine, come evidenziato dalla Commissione Interamericana dei Diritti Umani, hanno risposto con un uso sproporzionato e indiscriminato della forza. Credo fermamente che l'unica soluzione possibile a ogni crisi sia il dialogo. Le parti devono tornare il prima possibile al tavolo negoziale del dialogo nazionale. E come Unione dobbiamo sostenere in ogni modo il processo e il rafforzamento della democrazia. Ma un invito per il Presidente Ortega. Se davvero ami il tuo popolo, come credo, ferma la violenza verso i tuoi cittadini, siediti, ascoltali, parla con loro, negozia, sii pronto a un passo indietro se necessario. Questa è la cosa giusta da fare, l'unica.